Vostro onore, vorremmo ritirare la dichiarazione di non colpevolezza e dichiararci colpevoli. Colpevo! Ordine in aula! Ordine! Seriffo! Vostro onore! Vostro onore! Grazie! Faccio sembrare l'aula! Rallegramento! Vostro onore! Vostro onore! Che giustizia è questa? Ma... non lo so. Cosa farà adesso? Continuerà a colpire l'organizzazione? Scusate... Lei c'entra con lo scambio delle giurie? Che cosa ne penserai un po'? Eh? Non si domanderà che razza di giustizia è questa? Vostro onore! Vostro onore! Ma che sta... Aspetta, aspetta, aspetta! Lascia, lascia! Mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito! Non sento, che cosa hai detto? Che non bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito! Come? Mi ha sentito, Capone! Abattere, non sei niente! Solo giacchere distintivo! Qui finisce la lezione! Sei solo giacchere distintivo! Solo giacchere distintivo! Sei solo giacchere distintivo! Giacchere distintivo! Sei solo giacchere distintivo! Sei solo giacchere distintivo! 그대로, non avere tantrumi! Grazie a tutti.